Slitta la ripresa dei voli dal Ginolisa di Foggia. Lunedì prossimo alle 7 del mattino era previsto il decollo per Milano Malpensa del Fokker da 50 posti dell'Air Vallée gestito dalla Blue Wings Air. Ma nelle ultime ore la società di brokeraggio è stata costretta a ufficializzare il rinvio. Lo annuncia Valerio Zifaro, rappresentante in Italia della Blue Wings. La mancanza di certezza dei servizi aeroportuali di terra e di spazio aereo al Ginolisa non ci mette purtroppo nelle condizioni di poter far decollare i collegamenti aerei per Milano. Ci auguriamo che gli enti preposti a garantire i servizi di sicurezza e di agibilità dello scalo aerofoggiano possano nei prossimi giorni rimuovere gli ostacoli all'avvio dei voli programmati, per i quali abbiamo riscontrato un'ottima risposta da parte dei clienti sulla tratta Foggia-Milano. Il primo volo per Malpensa, infatti, aveva registrato quasi il tutto esaurito. Il Ministero dei Trasporti ha escluso il Ginolisa dagli aeroporti di rilevanza nazionale. Di conseguenza l'Enac dimezzerà a partire proprio dal 27 ottobre le ore di servizio del personale negli aeroporti a basso traffico, tra cui Foggia. Per quanto riguarda lo scalo del capologo Dauno, il servizio dovrebbe cominciare alle 13. Ciò significa che al mattino non ci sarebbe personale per far decollare l'aereo. Si era anche ipotizzato l'utilizzo del radar dell'aeroporto militare di Amendola, ma al 32esimo stormo non sarebbe giunta alcuna richiesta ufficiale. Sappiamo, aggiunge Zifaro, dell'apprezzabile interessamento dei aeroporti di Puglia nel risolvere con Enac e ENAV gli impedimenti logistici all'operatività dello scalo aereo per le fasce prestabilite dei nostri collegamenti. E pertanto confidiamo di poter ripristinare in tempi brevi la programmazione dei voli.